Dal 5 al 7 novembre all'hotel Meglià torna Golosaria a Milano, una rassegna che mette in evidenza le eccellenze d'Italia e in particolare quelle delle Lombardia. Ci sarà spazio per showcase, show cooking, convegni, incontri, si parlerà molto anche di economia legata all'enogastronomia e una chicca, si riscoprerà il pollo milanino. Abbiamo discusso in sede di Camera di Commercio e vi ha detto ma perché i mondi che guardano il Camera di Commercio non sfruttano le rispettive professionalità? Perché un'azienda ricola non sfrutta la professionalità di un negozio di guardia? E allora faremo vedere un esempio, un negozio di prossimità che mette un cartello fuori e dice io tutti i martedì vendo i prodotti dell'azienda talentale che ho adottato, questa settimana arrivano questi prodotti. L'azienda mette fuori un cartello davanti ai suoi tavoli e dice io che ho il problema di prodotto e faccio fatica a vendere, ma tutti i martedì, mando i miei prodotti in quel negozio e spero che i clienti che a martedì vanno con i miei prodotti mi vengano trovare sabato o domenica perché ho un mercurismo e faccio tornare a casa. Quindi un'alleanza forte tra agricoltura e cittadini e questo esempio lo lancieremo e sarà anche oggetto di un convento che faremo. La domenica è il giorno di celebrazione del Golozale, quindi arriveranno come detto da tutta Italia gli operatori, i ristoratori e lunedì è il momento di celebrazione della guida che è in Golozale e anche di un altro simbolo che è il pan di Golozale. Io vi ho detto le cose più importanti di Golozale, poi ci sono tanti lavoratori ispirati alla cucina degli avanzi ma anche al piatto della domenica perché è vero che non si cucina più ma cucinare, farla mangiare per l'altro e chiamare, chiedono noi a partecipare alla vita, è un atto di comunicazione. Quindi io dico il messaggio alla domenica è non rinunciare a fare il piatto come accadeva nelle vostre famiglie e tutti lo possiamo ricordare. Non rinunciare, è un modo anche di coinvolgere i figli a preparare questo piatto e noi diamo anche tutti gli strumenti per questo, ma noi faremo un po' dei seminari su cosa vuol dire fare questo. Ovviamente ci sarà sempre quest'anno che concludo l'enoteca con i 100 migliori vini d'Italia che in Romarco abbiamo spazionato senza mai premiare le 900 cantine degli anni precedenti. Quest'anno ci siamo arrivati a 1000 cantine e l'abbiamo fatto già dimostrare una cosa, che non possiamo vivere in classifiche, no? Con sempre gli stessi nomi in testa delle classifiche. Noi dobbiamo premiare questo movimento nel mondo del vino che oggi produce grandissima qualità, sostanza anche nel vino. Dobbiamo scoprirlo e metterlo sul piedi stanno. E il fatto che ogni anno troviamo 100 milioni di vini da ogni anno è la dimostrazione che c'è una qualità diffusa. Il 10% di questo centro è detenuto dalla Lombardia, che è un buon piazzamento, perché anche in Lombardia c'è un grande investimento del vino.